Via vai di fedeli e turisti stamattina in cattedrale a Belluno, una veglia di preghiera questa sera nella chiesa di Loreto e poi domani tutti in piazza per assistere alla cerimonia di beatificazione di Papa Luciani. Lei ha un ricordo di Papa Luciani? Abitavamo qua vicino, sì, ai tempi, quando era qua a Belluno, sì. È contenta di questa beatificazione? Sì, proprio felice. Vigilia di attesa per la giornata storica che si appresta a vivere Canale d'Agordo, città natale del pontefice che sarà beatificato durante la solenne celebrazione presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro che consacrerà la storia Albino Luciani. È tra le dolomiti che Luciani maturò la sua vocazione, lavorò la sua idea di chiesa per i poveri, gli ultimi, i deboli. Luciani ha ricordato ieri durante la conferenza stampa in Vaticano il cardinale Beniamino Stella, all'epoca uno dei sacerdoti della diocesi di Vittorio Veneto, si distinse per la sua semplicità e la sua umiltà. Era un formidabile comunicatore, pur essendo molto colto, era capace di improvvisare omelie in dialetto pur di arrivare ai più semplici. Un Papa che ha parlato davvero al cuore della Chiesa, ha detto il cardinale Stella. A Canale d'Agordo è stato allestito Maxi Schermo per consentire a chi non ha potuto raggiungere Roma di vivere le emozioni della cerimonia di beatificazione, alla quale presenzieranno le maggiori autorità religiosi e civili della provincia di Belluno e del Veneto. Ieri sera a Canale era attesa Candela Giarda, la giovane argentina guarita per intercessioni di Papa Luciani, ma la donna, all'epoca dei fatti una bambina, non ha potuto raggiungere la terra natale di Giovanni Paolo I perché infortunata. È stata la certificazione di quella guarigione, che non ha avuto spiegazione scientifica, ad essere valutata dalla Congregazione per le cause dei Santi, che dopo un iter durato 19 anni ha consentito di dichiarare la beatitudine di Papa Luciani.